Ci vuoi salire un'altra volta? Sì? Pensavo che vuoi ballonare. Cosa dici? Cosa dici? Tutti vogliono usse, ma vogliono usse. E devono volerle lì voi? Non c'è ragazza. Tutti vanno. Tutti vanno. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie 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 Non, 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 non. Non, 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 non Che c'è il bambino? Sono piccolato Dicomo Faccio con L'agogo Dicomo Che c'è il bambino? Beh Вา CSA nuovies, non iluencre di più Ma guard verdade ha un problema Delle per l'aggete Di qui male stlike il bambino Decela di lingua nelмерикone L'aggete la pacote Si non si non le prof sta in differenza La freccia di carico Anche tante l'aggete ed è un problimento ma cosa si vende i bambini ma non hai problemi perché non funziona? ma non mi uso non mi uso ma non hai problemi ma non hai un problimento 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 Midi spiace Midi spiace Midi spiace Spiace Domenico Insha'Allah C'è 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 Grazie mille C'è 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 un po' 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 un Grazie. Grazie. a casa blanca, a roma, a vero a colico in realtà, a colico a paghen amparare ke l'italiano, vienu va bene grazie il è suolo, 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 ciao, qual è il professor? hola, hola, professor della casa di Cazza casa di Pobin esatto, 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 esatto oh la mattina, sono alzato oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao alla mattina, sono alzato non ho trovato le campioni ho parmigiano nuova marina oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao la mattina, sono alzato non ho trovato le campioni anche lui fa le dirette come te io sono troppo bello ma le connexioni c'è un problema con le connexioni capito? si mi senti? 20-30 diram per il nero quello che c'è un problema con la rete che non è ? abbrakeem sai fatti le due sai fatti le due 14 mila sai fatti le due mandati alle mie amici si ti senti? si ti sento no no ti senti c'è un problema non posso mi di senti anche ti lo dico mi dispiace a tutto mi senti? il telefono che ci monta ciao bambino il telefono fa male la mia testa come sta? bene bene non è stato il telefono non è stato il telefono questi due ragazzi come come amici no amici amici poi ti rubano l'ambito Anche quando in Italia non c'è un amico mio. Sì, va bene. Sì, va bene. Hai ragione, hai ragione. No, ma sì, ci serve sincerità, sincerità, la prima cosa, lealtà, sincerità. Non c'è problema. Non fare lì come domanda, va bene? Ok, sì, vai. Per voi, non giusta? Non c'è problema. Città? Non c'è problema. Non c'è problema. Non c'è problema. Ciao, Sama. Ciao, come stai? Bene, bene, tu? Tutto bene, tutto fosta. Sì, la bas, hamdullà. Non c'è problema. Perché? Perché? Grandi. Grandi. Non c'è problema. quindi la domanda cos'è Milano sì sì no Milano mi dispiace perché è sbagliato grazie mille ci vediamo la prossima volta ciao un bacio ciao grazie mille puoi fare una dedicazione dimmi dimmi la connexione alla lenta una dedicazione a Salah e Tariq grazie Tariq grazie mille ciao qua non spiace i miei amici non lo so cosa successe facilità